Fatto spontaneo è questo dire, le sue influenze oltre i confini, di farne un motivo assoluto, ritenere giusto un silenzio, frattanto inutile movimento, probabile causa di sdegno, sangue fumante dev'essere, dalla generalità di un significato all'universalità di una nuova idea, un tentativo di più per chiarire, per lasciar trasparire una ricerca. Vorrei che guardaste lontano, correggeste gli errori del passato, l'ingenuità resa dai vari pensieri nella loro percorribilità visiva, ciò che suscita lingue d'angoscia, il destino che sembra inamovibile, combattuto, quindi, insostenibile. Svanteggiosa è la sua rimozione, sottoposta ad un continuo processo. Impossibile, un reale cambio di rotta che non sia frutto di assolta intuizione, obbedire soltanto alle intenzioni, rilevare che l'operazione è compiuta, appena toccato il groviglio, sparire senza indugio, senza scrupolo per sé.